Sottosegretario, favorire la crescita, sostenere i più deboli, il tema dell'incontro di oggi al meeting, quali sono le priorità nell'Italia di oggi? Dalla pandemia alla guerra in Ucraina, alla fiammata inflazionistica, alla crisi idrica, occorre fronteggiare queste crisi con una prontezza operativa che è propria del mondo delle imprese ma che deve essere invece fatta propria anche dagli apparati pubblici, dagli apparati preposti alla definizione delle decisioni pubbliche ma anche alla corretta attuazione delle decisioni pubbliche e nel contempo occorre, come dice il titolo, da un lato provare a sostenere una crescita economica che non c'è stata negli ultimi anni e che invece negli ultimi 18 mesi è ripresa anche con alcuni tassi di livelli, di intensità importanti e al contempo proteggere non soltanto le fasce più deboli del paese ma anche la capacità del tessuto produttivo tra mille difficoltà e mille emergenze di continuare a competere e assicurare la crescita del sistema Italia, del sistema economico e sociale del nostro paese.